ciao cari amici amici eccoci il nostro quarto incontro attenzione attenzione i nostri dieci minuti insieme vi vedete in un ambiente insolito sì all'aperto nel cortile col sole che mi fa ombre in viso ma non fa niente perché volevo stare tra le margherite fiorite vicino all'acero rosso che ha fatto le sue foglie si a diretto con scalza a diretto contatto con madre terra perché per ricordarci che le stagioni hanno il suo corso abbiamo l'inverno che fastidioso anche se necessario e quindi è un periodo brutto poi risorge tutto ma anche i cicli storici sono così pensate quanto ne hanno passati i nostri antenati guerre pestilenze fame e poi tutto si è risollevato si è tornati a una vita aggiata a una bella vita anche a noi succederà così facciamo questo sacrificio questo periodo di rimanere in casa di rimanere in casa il più possibile c'è una frase che alessandro magno ci ha lasciato un'eredità il futuro di tutti dipende dalla condotta di ognuno quindi care amiche cari amici siamo a casa il più possibile tra l'altro questa è la settimana di pasqua abbiamo avuto una luna grandissima luminosa bellissima bella bella da vedere dobbiamo pensare positivo e se c'è la luna prima un pezzetto poi diventa grande grande luna piena tornerà la luna piena nella nostra vita quindi pensiamo positivo e viviamo positivo e per pasqua lo so che un po dura non passarla con parenti amici ma è indispensabile però sia per chi vive in un nucleo familiare la passerà con quelli che vivono in casa oppure chi come me vive da sola e tante altre persone siamo così lo stesso mettiamo la tovaglia da tavola più bella apparecchiamo bene magari accendiamo pure una candela non ci saranno tutti i dolci a casa quelli di pasticceria tante cose ma non fa niente l'importante e pensare positivo se giorno di pasqua magari a pranzo tutti ci concentriamo un minuto sulla positività che tutto si risolve vedrete che magari allontaneremo allentaneremo questo maledetto virus dobbiamo pensare positivo e vivere una pasqua felice lo so che alcuni di voi hanno perso qualche persona cara e sentirsi dire passa la pasqua felice ma sappiate che le persone che vogliamo bene che se ne vanno ci vedono ci vedono e quindi ci vogliono felici sono vicino a noi lo stesso quindi pensiamo positivo tra l'altro vi voglio leggere una poesia scritta da pirani rina natalini una mia cara amica collaboriamo insieme in tante cose i testi teatrali che metteremo in scena ovviamente quando torneremo alla vita normale li facciamo insieme una brava scrittrice ha scritto vari libri del libro il mio cane chi io sono stata la madrina e l'ultimo libro invece parla di spiritualità ed è un libro che andrebbe bene leggere in questo momento che ci crediate o no è andata così di rina pirani natalini sono sicura che vedrà questo video quindi le mando un bacio e lei ci ha regalato una poesia per sorridere insieme pasqua è arrivata pasqua è arrivata e già nell'aria triste e solitaria non potremmo andare in chiesa perché sarebbe una pretesa visto che per il momento non possiamo fare un giro in centro c'è un virus molto strano che ci fa respirare piano piano ci fa stare tutti in casa sul balcone o in giardino quel bestiolino ma se lo vedo anche di lontano lo prendo e lo metto sull'aeroplano per un viaggio che lo porti al confine su una stella di nome fine le uova sode di cioccolata sono pronti per la scorpacciata cara pasqua del 2020 non ti dimenticheremo e ancora un giorno di festa ti chiameremo tanti auguri di buona pasqua a tutti voi un abbraccio un bacio dalla vostra selene ciao ciao cari